4 e mezzo più recupero, 1 a 1 A Falcinelli ha risposto Sensi E poi, eccolo qua, il gol del 2 a 1 del Sassuolo Ha segnato Pietro Iemmello su azione da calcio d'angolo Altra disattenzione della difesa del Crotone Con Cordaz che non ha potuto farci nulla Gol di Pietro Iemmello, dunque, che ribalta il risultato Qui rivediamo con Iemmello che sbuca alle spalle di tutti Un gol evitabilissimo da parte della difesa del Crotone